E' stato firmato a Palazzo Chigi il protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Il documento, firmato dalla Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Gualtiero Bassetti, dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, entrerà in vigore dal lunedì 18 maggio. Una notizia accolta con grande soddisfazione dalle quasi 2.500 parrocchie toscane. Si torna dunque tra le panche per le celebrazioni religiose. Va bene l'emergenza, hanno detto diversi parroci, va bene lo streaming, ma la chiesa, per sentirsi tale, ha anche bisogno di incontro. Ovviamente ci saranno dei protocolli ben precisi da rispettare riguardanti distanziamento e mascherine. Le chiese dovranno fornirsi di gel igienizzante all'ingresso, mentre, dove possibile, le celebrazioni religiose saranno aumentate per favorire meno assembramenti. Il protocollo indica anche alcune misure da ottemperare con cura che riguardano l'accesso ai luoghi di culto in occasione delle messe, l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti, le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti, la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali.